Il Flag Pescando supporta gli operatori della pesca con finanziamenti a fondo perduto per avviare nuove attività di iti turismo o migliorare quelle già avviate. L'attività di iti turismo può essere svolta da un imprenditore ittico che eserciti la propria attività da almeno due anni. Possono essere utilizzati sia locali chiusi, ad esempio la propria casa, i locali commerciali, i depositi di rimessaggio, sia gli ambienti aperti, ad esempio le lagune, gli stagni e zone demaniali in concessione, ecc. Il Flag Pescando può supportarti con un contributo a fondo perduto fino a 51.500 euro che coprirà fino al 50% del tuo investimento. Possono essere finanziate sia attività di ristorazione che la realizzazione di strutture per la microricettività. Il Bando finanzi attività localizzate all'interno del territorio del Flag Pescando, cioè Comuniti Arborea, Arbus, Baratti di San Pietro, Cabras, Cuglieri, Cuspini, Marrubio, Narboria, Nuracchi, Oristano, Palmas Arborea, Rio Lazzardo, San Berumidis, Santa Giusta e Terralba. La scadenza per presentare la domanda è il 31 luglio 2020. La scadenza per presentare la domanda è il 31 luglio 2020.